Chieti dove è tutto pronto per la serata finale della prima edizione del premio internazionale Anton Giulio Maiano che questa sera a partire dalle 20.30 Reteotto trasmetterà in diretta dal Teatro Marrucino e proprio sul palcoscenico del prestigioso Teatro Marrucino saliranno tanti esponenti del mondo del cinema per ritirare il prestigioso Achille d'Argento. Allora per avere qualche anticipazione di questa serata di gala ci colleghiamo in diretta da Chieti con la nostra Marina Moretti che vedo già pronta con il vice sindaco di Chieti Paolo De Cesare. Marina allora cosa puoi raccontarti anticipandoci la serata di questa sera? Intanto lasciami dire Anna che è un grande piacere essere qui al Teatro Marrucino che è davvero uno dei vanti del nostro Abruzzo ed è sempre un piacere entrare in questo Teatro di Chieti, lo sarà ancora di più questa sera perché sarà pieno di gente ma anche di nomi celebri del teatro, della musica, del cinema, anche della letteratura perché ci sarà anche rapino. Ci stavamo chiedendo col vice sindaco Paolo De Cesare se ricordare tutti i nomi. Non vorrei che si facesse la fine dei Sette Nani che non se ne ricorda mai uno e manca sempre uno. Allora solo hanno dodici, saranno nomi importanti, vogliamo dirne due? Proviamo a dire Giancarlo Giannini e... E allora Giorgi? Se la sente di rischiare di andare avanti? Assolutamente, Lucrezia Guidone, Carmine Lia, insomma abbiamo davvero tantissimi ospiti, ci sarà forse anche qualche sorpresa e siamo davvero felici di come sta procedendo anche l'allestimento, di quelli che sono i preparativi, del fatto che il teatro sia totalmente sold out e quindi vogliamo fare anche un appello a chi ci volesse seguire. Abbiamo sia fuori dal teatro un grande led wall che riproduce in regia ciò che accade all'interno del teatro per il premio e sia, grazie a Rete 8, diciamo lo media partner di questo grande evento o ci sarà una diretta televisiva? Io vorrei ricordare anche, dicevo i premiati saranno dodici, li potete scoprire anche sul nostro sito internet, ma vorrei ricordare soprattutto la persona a cui è intitolato questo premio, Anton Giulio Maiano. Lo abbiamo ormai definito e forse troppo inregimentato in quel ruolo di precursore della fiction tv, autore, sceneggiatore di celebri sceneggiati televisivi, ma vorrei anche dire una cosa, ai giovani che magari non lo conoscono e non hanno avuto modo di apprezzarlo, è vero c'è un periodare più lento rispetto alla velocità di immagine di oggi, però si scopre anche tanto e si possono ancora vedere tra l'altro delle cose di Maiano in giro, anche su YouTube qualcosa si recupera. Sì, infatti questo aspetto dei giovani è stato uno degli elementi cardini che abbiamo voluto introdurre in questo progetto su Anton Giulio Maiano perché proprio ieri abbiamo avuto un bellissimo cineforum con i ragazzi delle quinte, dei licee e degli istituti teatini all'auditorium Cianfarani, molto partecipato con Federico Perrotta ed Aurelio Biggi, peraltro ecco è stata anche un'occasione per far scoprire il talento ad alcuni ragazzi che hanno partecipato, c'è stato di fatto un provino estemporaneo di una ragazza molto brava e quindi diciamo sia un'occasione didattica culturale per far avvicinare i più giovani a questa personalità che ha fatto la storia del nostro paese nel campo della cultura legata al piccolo schermo e al cinema e sia per comunque insomma avvicinarli a un mondo quello della televisione e del cinema dove magari loro possono scoprire un potenziale e un talento come ad esempio è capitato proprio ieri. Oltre questo insomma è un'occasione di cultura, è un'occasione importante per la città di Chieti, una grande visibilità, una certificazione di quello che io dico da tempo che la Chieti punta ad essere il punto di riferimento per la cultura in Abruzzo e non solo e questo progetto contribuisce in onore di un grandissimo teatino che ha fatto, torno a ripetere, la storia del nostro paese. Vogliamo chiudere provando a dare qualche anticipazione, lei ha parlato di una sorpresa che immagino rimanga tale, a meno che non la voglia svelare al nostro Tg8 ma quello che si può dire ci sarà una seconda edizione a questo punto? Beh sicuramente non solo ci sarà una seconda edizione, visto il successo che stiamo riscontrando ma questo progetto non finisce solo con il premio ma continua anche con la realizzazione di un docufilm al quale parteciperanno e saranno coinvolte davvero personalità importantissime nel mondo del cinema e della televisione che darà sempre lustro alla città di Chieti e all'Abruzzo, puntiamo un riconoscimento importante io per questo voglio ringraziare il maestro Davide Cavuti che è il direttore artistico al pari del presidente della commissione della giuria Michele Placido che è molto legato alla nostra città al dottor Letta che ha accettato di essere presidente onorario del comitato istituzionale insomma a tutti coloro i quali hanno dato davvero i crismi dell'autorevolezza e dell'importanza a questo premio che sono lusingato come ideatore e promotore, sta riscontrando davvero tanto successo quindi l'appuntamento, lo lancio direttamente Marina, è a questa sera con la diretta onreteotto per una bellissima serata di gala, la cerimonia di premiazioni con tantissimi illustri ospiti con tante sorprese, ribadiamoci saranno padri del cinema italiano tipo Giancarlo Giannini ma anche della musica, prima non abbiamo menzionato Pino Donaggio al quale tributeremo il premio alla carriera come illustre compositore ma anche Violante Placido, anche Lucrezia Guidone che sta avendo un grandissimo successo con la sua fiction su Netflix perché poi dobbiamo far capire come si diceva prima anche i ragazzi che se oggi va tanto di moda Netflix o Prime ci troviamo queste serie tv o comunque cinematografiche è merito di chi ha avuto questa intuizione quindi è proprio un aspetto storico da far comprendere e da insegnare alle giovani generazioni Anton Giulio Maiano fu l'ideatore appunto delle fiction televisive con David Copperfield con La Cittadella, con... E le stelle stanno a guardare, la freccia nera e chi più ne ha più ne metta Bene, allora appuntamento alle 20.30 o dentro il Marrucino o fuori dal Marrucino o davanti alla televisione Correte 8 È tutto Anna Grazie a tutti